Alitalia è in arrivo da Milano, volo AZ 742. I passeggeri in transito sono pregati di recarsi all'uscita numero 2. Alitalia, arrival flight 742 from Milano. Passengers are coming to the gate number 2. Passengers are coming to the gate number 2. Passengers are coming to the gate number 2.